Se fai dropshipping hai assolutamente bisogno di creatives che vendono, quindi video, inserzioni che vendono i tuoi prodotti dropshipping e in questo video ti mostro esattamente come risolvere questo problema, quindi assicurati di vedere questo video fino alla fine E bentornati gladiatori, Stefano Montana qui per voi oggi con un nuovo video importantissimo, ovvero relativo alle videoinserzioni, alle creatives che devi utilizzare per vendere i tuoi prodotti in dropshipping Quindi andrò a spiegarti come ottimizzare le tue campagne pubblicitarie attraverso i video che sono uno strumento fondamentale per il tuo business di dropshipping, e-commerce, private label, qualsiasi tipo di business ormai Inoltre avrai la possibilità di ricevere gratuitamente il mio personale Montana e-commerce ebook che ti aiuterà fin da subito a sviluppare il tuo e-commerce e a ottenere più vendite ottimizzando il tuo negozio Shopify Le uniche tre cose che devi fare è iscriverti proprio in questo momento a montanabusesonline.com, il mio sito web Commentare qui sotto con l'hashtag Shopify dropshipping e seguirmi su Instagram Stefano Montana Real Fatte queste tre cose riceverai gratuitamente tramite mail il mio personale Montana e-commerce ebook che ti aiuterà veramente tanto Ti do il benvenuto al video relativo alle creatives di Facebook, quindi come dobbiamo ottimizzare le nostre creatività, ovvero le inserzioni pubblicitarie, in particolare i video Perché se tu fai dropshipping in generale hai bisogno di video che convertono e quindi creano già per il tuo brand un senso di fiducia E soprattutto spiegano al cliente, al potenziale cliente, come il prodotto risolve a loro un problema e quindi perché dovrebbero comprarlo Ora ti faccio vedere tre opzioni principali Ricordati che se hai bisogno del Montana e-commerce ebook, quindi del mio personale ebook gratuitamente lo metto a disposizione Per tutti coloro che commentano qui sotto, sotto questo video con l'hashtag Shopify dropshipping Per chi mi segue su Instagram, Stefano Montana Real e ovviamente chi si iscrive al mio sito web montanabusinessonline.com Se fai queste tre cose avrai diritto a ricevere gratuitamente il mio personale Montana e-commerce ebook che ti aiuterà tantissimo soprattutto all'inizio In particolare con le creatives, appunto qui ci troviamo all'interno di Montana Winning Products Uno delle tre alternative che devi assolutamente prendere in considerazione quando appunto crei le tue creatività E quindi le tue inserzioni, i tuoi video, le tue immagini Questo è un servizio che noi mettiamo a disposizione, ovviamente tutti i link li trovi qui in descrizione sotto questo video Principalmente ti diamo un prodotto vincente nuovo ogni giorno, comprensivo di appunto descrizione, prezzo consigliato, statistiche all'espresso eccetera eccetera Ma quello che ci interessa a noi oggi è il video, ovvero come creiamo video creativi che convertono Ok, qui ovviamente ti diamo anche noi il video Prendiamo qui il link, ti faccio vedere esattamente come deve essere il tuo video ad in modo tale che converta Quindi come creare ads che convertano Innanzitutto deve esserci nei primi 3-5 secondi un uncino, è chiamato hook in inglese Che appunto catturi attenzione, questi sono video ovviamente senza sottotitoli, senza descrizioni Perché appunto sono, te li diamo noi in Montana Winning Products E fanno vedere esattamente come il prodotto è fatto, cosa fa, vedi, è anche impermeabile Poi se tu ci vuoi raggiungere dei sottotitoli lo potrai fare tranquillamente In base ovviamente al paese che state organizzando Se state organizzando in Italia li farà in italiano, altrimenti in America li farà in inglese, in Francia, in francese eccetera eccetera Quindi questo per quanto riguarda, questa è la prima opzione Quindi se tu non sai come creare il tuo video, i tuoi creatives Non ti preoccupare, te lo diamo noi su Montana Winning Products, link in descrizione Poi la seconda alternativa è questo sito nuovo, nuovissimo Che consiglio ovviamente, per il quale ho addirittura una collaborazione che vi permette di ottenere il 10% di sconto su tutti i loro servizi Infatti loro ti creano la tua ad, la tua ad perfetta per il dropshipping Infatti trasforma semplici prodotti in dropshipping in bestsellers In quanto grazie alle loro creatività che ti creano loro Tu basta che paghi e ti danno il video già fatto per quel determinato prodotto dropshipping Grazie a questi pacchetti tu hai addirittura 3 video, 1 video, 5 video in 1, 10 video in 1 Quindi diversi prodotti dropshipping Se tu c'hai per esempio bisogno, qui sono anche gli esempi della copertina, consegna veloce Ovviamente il prezzo aumenta Però ti faccio vedere esattamente come ti creano il video loro Perché è fondamentale da capire Ovviamente la miniatura è fondamentale ragazzi Per catturare l'attenzione all'inizio Sarebbe l'immagine, l'immagine di copertina che tu metti al video Grazie alla quale loro stop scrolling Quindi si fermano per appunto guardare il tuo video Ti faccio vedere un po' dei esempi Ok, per esempio guardiamo questo qui La qualità è decisamente alta Vedete come sono super ai quali di video Questo per esempio è un prodotto per bambini Ok, la cosa ottima è la qualità del video Questi sono proprio video già fatti Ok, quindi non devi fare nulla Devi solamente prendere il video che ti danno loro E sponsorizzarlo su Facebook È già ottimizzato Poi ovviamente fargli aggiungere delle scritte Come in questo caso Sono fondamentali le scritte Vi consiglio di aggiungere per ogni video Principalmente le caratteristiche di un prodotto Di una creative di un prodotto vincente Che vende Una creative che vende quindi un Facebook ad Che vende è Prima di tutto la qualità del video deve essere la più alta possibile In questo caso è il top Poi devono esserci delle scritte Che spiegano esattamente come il prodotto risolve il problema Perché lo risolve e a chi lo risolve Quindi deve essere un messaggio diretto Semplice e concreto Verso quel cliente determinato Di quella nicchia specifica E successivamente Quadrato O consiglio anche rettangolare 1080x1350 di formato Altrimenti quadrato va benissimo Classico Quadrato Videohead quadrato E inoltre I primi secondi devono catturare l'attenzione E poi il resto del video deve Semplicemente No semplicemente In maniera concreta Spiegare come appunto il prodotto Va ad aiutare Soprattutto per quanto riguarda i prodotti dropshipping Problem solving E questo è quello che fa esattamente EstroHeads Punto com Vedete come la qualità La qualità è altissima Questo è un altro winning Qua sono altri winning Questa è una maschera Ovviamente quando comprate il video Questo watermark Non c'è Quindi voi avete il video Già fatto Anzi volendo Vi consiglio di aggiungere il vostro Watermark Per non farvi rubare i video Cosa che si può fare tranquillamente A Facebook E se la library Ma In verità Quando scaricate lì La qualità è super bassa Quindi Intanto è poco etico Ma non vi consiglio di farlo E poi si tratta veramente di Poche decine di euro Con lo sconto Con il link che trovate in descrizione Avete lo sconto del 10% Quindi Basta che andate qui sotto Cliccate sul link E comprate le vostre creatives Ok Ovviamente vi consiglio di partire almeno con tre creatives Dello stesso prodotto Per dare appunto Vi da tre creatives diverse Dello stesso prodotto Per darvi appunto più Fuoco Appunto più potenza di fuoco Per capire esattamente Quale funziona di più Di solito Io ne uso sempre tre Quindi Tre video diversi Oppure tre immagini diverse Tre è il numero perfetto Che dà la possibilità a Facebook Di capire esattamente Quale sta funzionando meglio Rispetto agli altri Va bene Quindi andrà a spendere più soldi Su quel video determinato Quindi vi consiglio di partire da tre Utilizzare il codice sconto Qui sotto E ovviamente affidarti a loro Che ci hanno già I video già fatti Quindi non ti devi impazzire Per fare i video tu stesso A meno che anche qui Un montaggio con il products Lo diamo noi Devi solamente aggiungere Il I sottotitoli magari O qualche musica Cosa del genere Niente di trascendentale Per modificare appunto i video Se vuoi farlo da solo Puoi usare siti come InVideo.io Che sono veramente economici Ti danno loro a disposizione Dei template Il problema qui È che loro non ti danno Comunque I video relativi Al tuo prodotto vincente Quindi dovresti registrartelo tu Oppure utilizzare Quello di Montana Winning Products E Ovviamente con Montana Winning Products Hai 30 video Quindi uno per ogni Uno per ogni prodotto vincente Un prodotto vincente al giorno Abbiamo detto Però ovviamente anche in quel caso Dovresti Qui dovresti montartelo Fare La Fare la copertina Devi fare tutto Ti prendi il lavoro Quindi O ci metti il lavoro Oppure paghi direttamente AstroHeads E hai tutto Tutto già fatto Quindi È fatto Bene Quindi Hai la sicurezza Che questo è un prodotto Ottimo Che converte Mentre magari se lo fai Tu da solo Tutto da zero Non è la stessa cosa Ovviamente Quindi puoi Comunque aumentare Il commercial rate Utilizzando Strumenti professionali Come Montana Winning Products Cos'è AstroHeads Successivamente In video Ti fa quindi fare Ti fa modificare il video Come desideri Ti fa decidere Ti puoi decidere Se farlo verticale Orizzontale Quadrato E ovviamente Te lo devi montare tu Non è complicato È semplice Costa Costa poco Mi pare Questa c'è La versione gratuita Poi 15 dollari al mese O 30 dollari al mese Ma ovviamente Non hai le clip Del tuo prodotto vincente Cosa fondamentale Quindi Mi raccomando Non fare le cose a caso Per qualsiasi tipo di domanda Puoi farmela giù Nella sezione commenti Sotto questo video Andrò a risponderti personalmente Andrò a aiutarti Se hai bisogno Del tuo personale Montana e e-commerce e-book Che andrò a Inviarti gratuitamente Devi solamente Iscriverti al mio Sito web A montanabusinessonline.com Registrati gratuitamente Segurmi su Instagram Stefano Montanagal E scrivere qui sotto Il tuo commento Con l'hashtag ShopeeFaDropShipping E andrò a aiutarti Direttamente Per quanto riguarda Il tuo business e-commerce Quindi Per questo video è tutto Ci vediamo al prossimo